Ho deciso di partecipare al musico perché così nella mia vita dovevo provare anche questo, era un'esperienza che non avevo mai fatto. Mi piaceva proprio anche capire come può funzionare un musico, l'organizzazione di questo evento. In primis è una cosa fatta da persone che non hanno come principale attività questo tipo di lavoro, perciò è improntato anche sull'impegno, sulla novità, è anche novità come cosa che propone Coop. Proprio poi fatta da tutti i dipendenti, non è una cosa comune come andiamo a vedere uno spettacolo al teatro. Per questo ci devono venire a vedere.